Mi venne per la testa di fare questo video per siciliano. Ma perché per siciliano? Ma ora vi faccio sapere. Per me, il siciliano, come tutti i dialetti italiani, è importante. Amo fare tutti il nostro meglio, che i dialetti italiani non scomparano. E così voglio fare questo video per siciliano, per fare un esempio russiciliano parlato. Io so che ci sono chiudere che dicono che il siciliano è una lingua. Lingua o dialetto, per me è la stessa cosa. Chiudere che è importante per me è che il siciliano, come tutti i dialetti italiani, viene parlato. E così rimane vivo. Potere parlare per siciliano è assai importante per me. Fa parte della mia cultura e della mia identità. Amo il siciliano e ci tengo assai a mantenerlo e migliorarlo. Ma visto che non ci nasce e non ci cresce nella Sicilia, forse il mio siciliano non è come chiudere che si parla oggigiorno nella Sicilia. Se ci sono siciliani che stanno guardando questo video, fatemi sapere, sono siciliano che stai parlando e come chiudere che parlate voi altri nella Sicilia. Ma forse state pensando, ma com'è che parla un siciliano questo? Ma ora vi faccio sapere. Per dire la verità, il siciliano non lo parla assai. Parlo il siciliano solo come pace. Qualche volta parlo il siciliano come frate e come solo, ma soprattutto parlo il siciliano solo come pace. Parlo il siciliano come pace perché è la lingua sua e ci viene più facile. Se ci sono italiani che stanno guardando questo video, fatemi sapere se capisciate quello che dico. Mi interessa saperlo. Speriamo che vi piaceva questo video. A me mi piaceva assai parlare per siciliano e fare questo video. Se vi viene la voglia, fatemi una domanda o lasciate un commento e io vi rispondo. Per ora vi saluto e vi mando tante cose buone. Grazie a tutti.